allora buonasera a tutti la domanda è complicata nel senso che le difficoltà sono tante e sono per tante per tutti maschi e femmine perché come dicevamo prima e gli sport professionistici in italia sono solo quattro certo è che essere donna è un aggravante e quindi diciamo che si parte da una difficoltà iniziale che è quella di conciliare lo sport con qualsiasi altra attività organizzata questo perché come dicevamo prima l'attività agonistica è diventata sempre più iper specializzata è sempre più precoce per cui si è abbassata negli anni l'età in cui praticare attività agonistica diventa incompatibile con qualsiasi altro impegno organizzato questo vuol dire che il primo problema che sorge in un atleta di alto livello è quello di conciliare lo sport con lo studio e l'italia è giusto per dire qualcosa di nuovo nel senso che io sposo già tutto quello che è stato detto finora io cerco di dirvi qualcosa che magari ancora non è stato affrontato l'italia è l'unico paese dove non esiste un programma strutturato per la doppia carriera ovvero per aiutare lo studente atleta a portare avanti le due carriere e questo perché la carriera dell'atleta è una carriera particolare che termina in un'età che è ancora piuttosto giovane in cui normalmente ci si inizia ad affermare nel mondo del lavoro e questo cosa vuol dire che comunque oltre a un problema di identità perché quando un atleta smette di essere atleta deve inventarsi un nuovo modo di stare nella vita si trova anche a dover affrontare un mondo del mercato che è già problematico di suo e voi lo sapete bene con molto spesso una formazione lacunosa senza sicuramente l'esperienza che può avere un suo coetaneo che si è dedicato solo alla formazione e senza avere la possibilità di capitalizzare niente di quello che ha fatto in tutti gli anni d'atleta e quindi non solo non ci sono le tutele, i diritti, la previdenza eccetera ma tutti gli anni che io ho vissuto d'atleta non servono a niente per qualsiasi altra cosa io voglia fare poi nella vita e la cosa drammatica è che questa cosa qui non interessa neanche al mondo sportivo perché se voi andate a guardare negli organici delle federazioni, delle 45 federazioni sportive nazionali di cui parlavamo prima non ci sono donne e se ci sono sono in qualche ufficio a fare le segretarie ma le atlete come me che hanno vinto e che magari come me hanno anche dei titoli che nonostante non ci siano programmi per la doppia carriera magari mettendoci molto di più mettendoci il doppio però si sono anche laureata, io sono anche laureata in scienze motorie però le federazioni, queste donne qui non le vogliono, non esistono, sono a fare altro io adesso ho un'attività turistica e non dico queste cose con vettimismo perché ho una vita bellissima di cui sono assolutamente fiera però sicuramente vivo come un fallimento il fatto che all'interno del mondo sportivo una persona come me non sia voluta e come me ce ne sono molte altre io per anni dopo aver lasciato l'attività agonistica mi sono un po' volontariamente allontanata dal mondo sportivo perché ci ho provato a fare delle cose però guarda caso tutte le cose che ho provato a fare erano sempre in condizioni di mobbing estremo perché probabilmente rientro tra quella categoria di persone che sono anche scomode per le cose che dicono e quindi non so vi racconto un aneddoto la federazione ciclistica nazionale dopo il mio addio all'attività mi ha proposto di diventare direttore tecnico delle squadre nazionali di tutte le squadre nazionali, maschili e femminili una cosa eccezionale e io a questo colloquio in cui sono rimasta un po' così perplessa da una proposta tanto grande mentre pensavo a cosa ci poteva essere dietro e come mi stavano fregando sono stata presa in contropiede perché alla mattina appena sveglia tutte le testate giornalistiche parlavano di questa cosa della federazione ciclistica che aveva messo la campionessa a capo delle squadre nazionali per farvela breve io ho lavorato otto mesi senza contratto senza stipendio con delle responsabilità che come potete immaginare poi nel mondo ciclistico che non è un mondo facile sono state veramente angoscianti e soffocanti e io essendo persona nota comunque all'interno del mondo sportivo ciclistico sono stata quindi incaricata informalmente di fare una cosa per la quale invece formalmente non c'era mai stato niente a codificare per cui ho dovuto dopo otto mesi di inseguimento di un contratto che non è mai avvenuto in cui ho continuato a lavorare a prendere tutte le responsabilità del caso ho dovuto per uscire da questa impasse inventarmi di dare delle dimissioni mediatiche attraverso una lettera che ho scritto a Repubblica per prendere le distanze da un ruolo che di fatto non era nemmeno mai stato mio per darvi un'idea di quello che può subire una persona tra l'altro come me che penso allo sport ha dato tanto e se mi sono venuti i capelli bianchi potete immaginare da quello che vi ho detto che una ragione c'è quindi questo per così dare anche un tocco di colore a un racconto che è veramente triste io al giorno d'oggi anche se raramente frequento ancora magari le gare gli arrivi per qualche premiazione così e sento ancora i luoghi comuni per cui adesso arrivano i veri atleti e parliamo dei maschi che iniziano la gara dopo le femmine ma questi sì che sono i veri atleti cioè queste cose qui nel 2017 fanno veramente male soprattutto fanno male a chi come me ha dato tutta la vita a un'attività in cui credeva per i valori di uguaglianza e di merito che comunque lo sport si porta dietro e che purtroppo in Italia vengono spesso soffocati da tutta una serie di superficialità che fanno rabbrividire potrei raccontarvi ancora molte cose ma magari se avete una domanda specifica grazie a tutti